Buon anniversario! Ma sono bellissimi! Eh, Arnold? Che vi siate regalati? Sono 31 anni, che regalo si fa? Argento, avorio? Oh, ci siamo regalati un nuovo abbonamento via cavo. Oh, fantastico! Ci sono tanti canali. If you want to win... Sai che tra me e Arnold non c'è più l'intesa di prima? Voglio che il matrimonio torni quello di una volta. Allora devi rischiare se vuoi smuovere un po' le acque. Non è impossibile e siamo ancora in tempo. Dovremmo fare terapia di coppia intensiva nel Maine. Il volo è per domani. Io ci sarò. Sei soddisfatta? Kay e Arnold, sono felice di avervi qui. Sono contento per lei. Siete qui per provare a ritrovare l'intimità del vostro matrimonio. È una follia, non abbiamo più 22 anni. Voglio assegnarvi il vostro primo esercizio. Stanotte dovrete passare un po' di tempo abbracciati. Forse è il caso di smettere. Vi sto chiedendo un atto di fede, di provarci. Avete i consigli sessuali per donne eterosessuali da un uomo gay? E alla fine tornerete a preferire il letto al divano. Non fa per me. Io proprio non ce la faccio. Pensi che in una settimana torniamo indietro di 30 anni? Sua moglie è molto infelice. E lei deve iniziare a chiedersi, ho fatto tutto quello che potevo? Vuoi far tornare la magia di una volta? Benvenuta nel club. Chi è qui che non fa sesso? Io. Non è mai troppo tardi se davvero lo vuoi e sei disposto a provarci. Chissà se lui parla a sua moglie così. Mildred, trovo interessante il fatto che tu sia nuda. La stiamo andando alla grande e ce la faremo. Ok, fase successiva? Scrivere una poesia, tenerci la mano in pubblico, fare una serenata? È il sesso. Io direi che è il caso di andare via. Arnold ha delle fantasie. Un triangolo. Con chi? Con Carol. Quella con i cani? Ciao! Hai un nuovo cagnetto? Non c'è due senza tre, non di più, eh?